A me mi dispiace vederci lì sotto perché siamo veramente una... oltre al fatto di un grande gruppo perché noi ci vogliamo veramente tutti quanti bene non ho mai visto uno screzio tra di noi mi dispiace veramente di cuore trovarci là sotto per me ogni partita è difficile perché si può mettere... si può mettere una giornata storta che non riesci mai a così io nel calcio ne ho viste di cotto e di crudo, veramente ne ho viste tante però ovviamente io ti posso dire che il mister sta facendo un grande lavoro tattico su tutto perché è una persona che ci mette pure lui veramente la passione le cose veramente fa anche un lavoro mentale perché poi è uno che è un sanguigno come me quindi però per quanto lavoriamo noi durante la settimana anche con il prof è impossibile stare lì sotto mi mangio veramente le mani